Riparte il mercatino di via Roccazzo dopo 4 mesi di chiusura. Molti clienti durante questo periodo di chiusura ci hanno continuamente chiamato per sapere quando aprisse il mercato e oggi ci sono venuti a trovare considerato che siamo all'interno della città ma nello stesso tempo all'interno di un polmone verde della città di Palermo rappresentato dall'Istituto Zootecnico dove oltre al mercatino possiamo trovare tanti animali e quindi poter fare una bella passeggiata e trascorrere anche una bella giornata in un ambiente aperto con aria pulita nel pieno rispetto delle regole anche del Covid-19. Sì, gli operatori e i produttori continuavano a chiamarmi ci sono stati dei momenti anche difficili perché non era facile spiegare che purtroppo bisognava rimanere a casa. Grazie al cielo quel momento ce lo siamo ad oggi almeno lasciato alle spalle siamo fiduciosi, speranzosi che le cose possano continuare in questo modo ma intanto certamente grazie al fatto che i siciliani siano comportati bene i mercati sono riaperti e tra questi anche l'Istituto Zootecnico dove tutti i sabati mattina è possibile venire a comprare prodotti genuini da portare nelle nostre tavole. Oggi finalmente riapre il mercato storico del contadino questo è un segno che abbiamo dato all'Istituto Zootecnico speriamo tanto di darne tante altre soprattutto parliamo della riqualificazione dell'Istituto di alcuni manufatti che noi vogliamo riqualificare portare un po' di persone qua all'Istituto, renderlo pubblico. Quindi bisogna anche educare il consumatore finale, il cliente a mangiare biologico, a mangiare cose genuine del territorio quindi dando la possibilità di puntare su questi mercatini rionali che purtroppo anche noi consumatori è la colpa anche nostra perché? Perché se noi andiamo giustamente all'orso di frutto e vediamo una pera che magari ci è macchiata e quella giustamente bella, grande e lucida ci prendiamo sempre quella bella, grande e lucida non pensando che quella pera grande e lucida magari sarà stata trattata.